San Valentino Torio sarà per quattro giorni la capitale del cinema. La città degli innamorati ospiterà dal 29 giugno al 2 luglio l'Outdoor Film Festival, una kermesse che offrirà anche una serie di attività e attrazioni per tutte le età, workshop e masterclass completamente gratuiti dedicati alla formazione in ambito cinematografico e non solo, per favorire ancora di più l'immersione in quello che è il magico mondo dei film e delle serie tv. Inoltre, sette grandi nomi del cinema internazionale giudicheranno i film in gara. Iscrizione aperte sul sito www.outdoorfilmfestival.it per ragazzi dai 17 ai 35 anni appassionati di cinema e serie tv. Dal 29 giugno al 2 luglio del 2023 avremo quattro giorni di full immersion all'interno del cinema, un evento che durerà tutta la giornata e sarà veramente immersivo, quindi è una cosa organizzata da giovani per i giovani. Questa è una delle prerogative, è una delle missioni, è proprio divulgare la cultura tra i giovani. Come si articolerà il festival? Ok, durerà quattro giorni, quindi ci sarà un concorso di film, ci saranno tanti ospiti, tanti attori, tanti registi internazionali, tra cui oggi abbiamo annunciato la giuria d'onore che è composta da grandi nomi del cinema sia nazionale che internazionale. La giuria d'onore sarà preseduta da Mr. Ketton Jones, che è un regista internazionale che tra i tanti ha diretto anche Leonardo Di Caprio, quindi insomma un grande nome del cinema a San Valentino Torio. Ci saranno Maria Sole Di Maio, che è un'attrice del Posto al Sole, Gina Marante, Luca Cantore d'Amore, Mattia Cantore d'Amore, il professore Alfonso Amendola, che è un professore di sociologia all'Università degli Studi di Salerno, che tra l'altro grazie al Trisilab sono partner per la formazione del festival, perché noi durante le giornate di festival avremo anche un aspetto formativo, quindi avremo delle classi dove gratuitamente 50 persone potranno formarsi. Allora, ci saranno 150 film che hanno partecipato al concorso di Ador Film Festival da 34 nazioni differenti. L'organizzazione ha scelto 13 film che concorreranno, saranno giudicati in una prima fase dalla giuria d'onore, mentre nella seconda fase dalla giuria popolare, che è composta da 130 ragazzi dai 18 ai 35 anni. Il tema protagonista della prima edizione è l'amore, lo facciamo nella città degli innamorati, quindi a San Valentino Torio, quindi si parlerà d'amore. Ovviamente vorremmo declinare l'amore sotto tanti aspetti, quindi il primo giorno si parlerà di amore per se stessi, quindi dell'accettarsi, dell'amarsi, il secondo giorno dell'amore per il prossimo, quindi dell'altruismo, il terzo giorno di amore per l'ambiente e il quarto giorno di amore di coppia. Sensibilizzeremo su queste quattro tematiche ogni giorno, ci saranno ospiti tematici ogni giorno, attori importanti, di cast importanti, quindi insomma prevediamo tanta cultura a San Valentino Torio in quei quattro giorni.